Sono Enrico Paglierini, mi occupo di tecnologia da parecchi anni, faccio il giornalista, ma prima di raccontarvi dell'oggi vi dico due cose sul mio passato, sono nato a Modena, ho studiato a Modena, ho vissuto per molti anni a Modena, ho cominciato il mio lavoro a Modena in un piccolo giornale, un quotidiano locale e anche in una piccola radio. Poi sono arrivato a Milano a Radio 24, qui mi occupo sia di tecnologia con una trasmissione settimanale che si intitola 2024, da ormai otto anni e dal 2000 faccio parte anche della redazione di GR24, quindi mi occupo anche di notizie per il nostro giornale radio. Come sapete il tema di quest'anno del Samsung Young Design Award 2011 è New Electronics for New Families, in effetti il tema è molto stimolante perché è vero che ci sono nuove cose elettroniche, nuove prodotti, nuovi servizi, ma non so se purtroppo o per fortuna anche nuove famiglie che in qualche modo hanno a che fare con questa nuova elettronica che li pervade, li circondano mai da tutte le parti. Direi che da quello che io riesco a vedere, da quello che gli esperti mi raccontano nelle interviste che ogni settimana faccio, vedo una società grosso modo divisa in tre. Partirei da quella forse più trascurata, che sono gli anziani e lo dico in termini positivi, oggi ci sono moltissimi anziani, molto arzilli che hanno una buona disponibilità economica e forse la tecnologia, o comunque il mondo della tecnologia, chi pensa ai prodotti, chi progetta i prodotti, si è, si sta dimenticando di questa fascia, che comunque è un mercato molto interessante. C'è sicuramente la cosiddetta fascia di mezzo, chi lavora, chi deve gestire la famiglia, chi si deve preoccupare dei figli, che in qualche modo è coinvolto in questa rivoluzione tecnologica o perché il lavoro lo costringe o perché è contornato da amici, da conoscenti che in qualche modo lo tirano per la giacchetta e gli fanno comprare uno smartphone, lo fanno iscrivere a Facebook, eccetera, eccetera. Poi ci sono i giovani, sicuramente i giovani, soprattutto quelli molto piccoli, nascono in questo mondo e per loro è naturale invece che cliccare, fare così col dito perché si immaginano che tutto sia touch. Su questi concentrerai poco l'attenzione perché in effetti si adattano molto facilmente a tutto quello che a loro viene proposto. Bisognerebbe essere forse più attenti al resto del mercato.